Mario Parodi, Presidente Sistone Riviera, possiamo dire che definitivamente per Pietrauligure e comprensore della Valmaremola il 2019 sarà l'anno dell'outdoor? Direi proprio che sì, finalmente con la presentazione dei sentieri che sono fondamentali per una partenza del turismo outdoor, per gli amanti, per i clienti futuri, e direi che a questo punto la partenza c'è stata. Adesso speriamo che sia abbastanza eminente, anche se i tempi saranno lunghi, spero meno lunghi del previsto, ma i risultati ci saranno.